Un saluto a Gossip News Ciao Lei quando ha conquistato il titolo da reginetta è solo un lontano ricordo Tornata single, la Buscemi ha trovato di nuovo l'amore Sono venuta con Alex che è il mio fidanzato E niente, siamo insieme da otto mesi e va tutto bene Come vi siete conosciuti? Noi siamo conosciuti a scuola di recitazione Abbiamo fatto scuola di recitazione da Rossella